Allora, facciamoci fotografare un attimino davanti, facciamoci fotografare davanti Allora, eccoli qua, Giulio Micolini, dove sei Giulio? Fatti vedere, fatti vedere Bruno Torrisi, vieni là, sei tu che fa segreti loro Bruno, la cosa succede, c'è qualcosa che non funziona, Bruno che vi fa il video per far vedere realmente quanti siete, sono dei numeri che soltanto la Polis può regalarci Fine settimana l'insegna del grande cinema e della grande fiction a Etanapolis, ieri ospiti della città del tempo ritrovato il regista di squadra antimafia Benemino Catena e gli amatissimi protagonisti Giulia Michelini che interpreta Rosi Abbate, Marco Bocci nella fiction e il amministratore Calcaterra e Bruno Torrisi che è in persona il questore Licata Una fiction di successo e quindi la gente dimostra il loro affetto con la loro presenza Quali altre iniziative in cantiere ci saranno, rimanendo sempre in tema appunto di cinema? Diciamo che avremo tutto il mese quasi di novembre dedicato al cinema, ovviamente subito dopo il Natale, ci sarà una grandissima sorpresa in questo momento lo posso dire e vi aspettiamo poi successivamente Gli attori hanno firmato centinaia di autografi e sono rimasti a disposizione del numerosissimo pubblico, un modo hanno spiegato per dire loro grazie Avete girato più o meno da un mese a Catania, tracciamo due mesi, un bilancio, com'è andata, cosa vi è piaciuto? Siamo stati benissimo, benissimo, peccato che il retto non si vede quasi mai, sempre foschia, però bellissimo Cosa vi è piaciuto di Catania? Beh guarda, il calore delle persone sinceramente non ce l'aspettavamo una cosa del genere E anzi una cosa che ci tengo a dire perché molto spesso tante persone sono venute sul set Magari avrebbero voluto fare foto, fare cose e non c'è stata mai la possibilità perché sul set la gente Non potrebbe venire teoricamente Come ci hanno detto di questa possibilità di venire qui Ci è sembrato carino anche ringraziare, usarlo come modo di ringraziare tutte le persone che sono venute Magari sono state allontanate eccetera eccetera Dicendogli grazie dell'affetto col quale ci seguite Siamo qua per ringraziarvi e per in qualche maniera scusarci per tutti i giorni in cui siete stati dalla mattina alla sera ad aspettare Gli attori impegnati a Catania per le riprese della nuova stagione, la quinta prodotta da Tao 2 Film Non vogliono svelare nulla e assicurano che non mancheranno i colpi di scena Infatti dopo la morte di Claudia Mares che ha scosso il pubblico, la Duomo riserverà delle sorprese Della quinta stagione qualcosa da rilevare? La stagione è mostruosamente segreta perché c'è un evento eccezionale che sarà il fulcro della serie Quindi non posso dirlo Ritorna la Mares Ritorna Ivan Di Meo Non è vero ovviamente sta scherzando, così che si porti fuori strada non è vero A proposito della Mares, amiche nemiche sul set, sulla fiction naturalmente Però invece siete molto, molto amiche nella vita privata Sì, le voglio molto bene a Simona, ci troviamo bene, condividiamo anche i figli, quindi è bello È venuta qui a Catania? Vi ha fatto compagnia? Pochi giorni è stata, però sì è venuta Il sito internet è impazzito perché si dice che dovrebbe esserci una scena tua di nudo integrale Ci sarà o non ci sarà? Ci sveli qualcosa? Te lo svela il regista, guarda, ha girato tutto lui C'è o non c'è? In boxer Quindi è stata tagliata? No, no, no Io però l'ho visto tutto il mondo Ecco, io l'ho visto E nell'ultima puntata c'è stato uno sguardo tra te e Rosy Abbate E non c'è Giulia Te lo rifacciamo subito Vogliamo sapere se poi vi innamorate o no? Chi risponde? Beh, troppe cose volete sapere Guardatelo, guardatelo, tanto lunedì Domani già si capisce tutto Domani già si capisce Domani già si intuisce